Finalmente è arrivato questo primo gol? Sì, sì, sono molto contento, anche se non siamo riusciti a vincere, però niente, sono contento per aver fatto il primo gol, lo aspettavo da tanto e finalmente è arrivato. Una partita intensa, addirittura qualcuno ha detto quasi da Serie C, non tanto da Serie D e Fanful è stato bravo a recuperare il gol di svantaggio. Sì, sì, due ottime squadre, il primo tempo secondo me è meglio noi, poi siamo andati sotto, è nato da un cross dove siamo stati disattenti, però siamo stati bravi a riprenderla e a trovare pareggio. Sei stato utilizzato come seconda punta quasi a fianco di Eradelli, un ruolo nuovo per te che eri abituato come esterno d'attacco, come ti sei trovato? Sì, abbiamo già provato un allenamento venerdì in rifinutura col mister, con le caratteristiche che ho posso giocare anche lì e niente, oggi è andato bene, ho sfruttato il movimento. Adesso ci aspetto un'altra battaglia con il crema, un derby. Adesso martedì ci ritroviamo, prepariamo la partita per domenica prossima che è il derby, ci hanno già battuto in Coppa e ci teniamo comunque a far bene, a vincere e portare a casa altri tre punti. Vuoi un'altra intervista a metà settimana visto che poi segni? No, basta. Grazie.